Ciao, sono Giuliana e questa è la mia voce. Immagina un mondo dove potrai accedere ai tuoi servizi, firmare, acquistare, entrare, farti riconoscere il tutto usando la tua voce. Nasce VoiceMe, la prima piattaforma di Enhanced Voice Customer Authentication che consente di trasformare la tua voce nella tua identità. Ciao, sono Giuseppe e questa è la mia voce. Bastano pochi istanti per crearla. VoiceMe utilizza un mix di tecnologie quali Machine Learning e Blockchain. I tuoi dati vengono richiamati e polverizzati ad ogni utilizzo, rispettando così i più alti standard europei di sicurezza. Grazie alla tecnologia di identificazione, VoiceMe consente di abilitare il riconoscimento dell'utente connettendosi a dispositivi IoT, creando diversi scenari, quali entrare in una stanza di hotel, a casa tua o in un'area riservata, chiedendo semplicemente alla porta di aprirsi. VoiceMe sblocca la porta. VoiceMe è in grado di offrire un servizio di firma elettronica avanzata vocale conforme alla normativa europea EIDAS. Sarà così possibile firmare un documento o sottoscrivere un contratto con piena validità legale, durante una chiamata o tramite un messaggio. VoiceMe firma il documento. Il metodo brevettato VoiceMe e l'innovativa tecnologia crossover consentono di abilitare il pagamento di beni e servizi, come per Lorenza, che potrà finalmente acquistare la promozione usando solo la sua voce. VoiceMe attiva la promozione. O sarà possibile anche per Giuseppe inviare del denaro a Lorenza, condividendo per messaggio un link verificato da VoiceMe che abilita il collegamento tra i due e lo scambio di denaro. VoiceMe. La tua voce. Sei tu.